Buongiorno Deido, essendo io un maschio ed essendo peraltro nato negli anni 80, ho due grandi passioni. Una è l'impero romano, a cui penso più volte al giorno, e l'altra sono i videogiochi, ve ne sarete accorti perché in questo podcastino ne ho parlato spesso. E nelle ultime puntate abbiamo parlato intensivamente di videogiochi a causa della Fair Unity, di cui peraltro oggi riparleremo perché ci sono delle croccanti novità. Ma siccome volevo portare anche un po' di positività in questo mondo dei videogiochi, che alla fine è divertimento, è gioia, è passione, prima di addentrarci appunto nelle news brutte che riguardano Unity, vi faccio vedere, vi lancio un consiglio su una cosa bella, che peraltro mi era in qualche modo sfuggita, cioè io non mi ricordavo o non sapevo, non l'avevo mai saputo, dell'esistenza di OpenRA, ovvero una versione open source del motore di gioco di Command & Conquer Red Alert. E se come me eravate dei videogiocatori negli anni 90, è impossibile che non vi ricordiate di Red Alert, di Command & Conquer, insomma un videogioco strategico. Ebbene, OpenRA è una versione open source di questi giochi, e permette attraverso appunto il suo motore di ricreare gli stessi giochi, oppure versione alternativa, oppure qualunque tipo di gioco con le stesse regole, sono giochi strategici in tempo reale, appunto utilizzando questo set, questo tool che trovate su Github. Sul sito ufficiale openra.net trovate tutte le informazioni, anche le informazioni sul tipo di licenza adottato dal gioco, tutte le istruzioni su come adottarlo, su come creare nuovi giochi, oppure mod per il gioco esistente, perché OpenRA fornisce proprio una versione alternativa e open source dell'intero Red Alert, che potete quindi giocare, ma potete anche moddare come più vi piace, se siete in grado di utilizzare questo tipo di gioco. E insomma, è una cosa che volevo dire, perché a parte che mi ha scaldato il cuore rivedere Red Alert dopo tanto tempo, e in così grande forma, insomma, mi fa molto piacere. In più, magari qualcuno è interessato davvero a mettere le mani su questo tipo di giochi, o provare a tirar fuori un prodotto originale, sfruttando questo che poi in realtà mi sembra un tipo di gioco che funzionerebbe ancora oggi, non mi sembra invecchiato così male. Quindi, se vi interessa, dadeci dentro. E io adesso non posso far altro che dar dentro alle news di oggi. Allora, come detto, parliamo di Unity. Sul caso di Unity non vado a fare un recap, perché ne ho parlato qualche giorno fa, anzi, se non sapete di cosa sto parlando, andatevi a recuperare quella puntata del buongiorno, di qualche giorno fa, in cui ne parlavo, così avete un quadro generale di cosa sta succedendo. Molto in sintesi, Unity, che è un motore di gioco per creare videogiochi 2D e 3D, molto popolare, molto diffuso sul mercato, ha cambiato unilateralmente il pricing model, il modello di licenze, il termo service, e la community degli sviluppatori che usano Unity, ma non solo, ma anche dei videogiocatori e anche della stampa, ha reagito in maniera molto forte e molto negativa contro questi cambiamenti, che sostanzialmente vanno a mettere un prezzo, un costo, che gli sviluppatori devono pagare a Unity per ogni installazione del gioco. Questo è molto in sintesi, però poi, ecco, vi invito ad andare ad approfondire anche su altri blog. Ora vado a vedere cosa è successo nei giorni successivi fino ad oggi per farvi un po' capire come si sta muovendo, cosa si sta muovendo attorno a Unity. La prima notizia che ho trovato è qua su The Verge, ed è il 14 settembre, quindi è di due giorni dopo all'annuncio sul blog di Unity, e sono delle minacce di morte addirittura arrivate a John Riccitiello, che è il CEO di Unity, che aveva preso, tra l'altro, la carica di CEO di Unity dopo essere stato CEO di Electronic Arts, che è un'azienda gigantesca nel panorama dei publisher e degli sviluppatori di videogiochi, è quella che per intenderci sviluppa e produce FIFA, il gioco di calcio, probabilmente il gioco più venduto ogni anno. Ebbene, John Riccitiello doveva parlare a un meeting con gli impiegati, con i dipendenti di Unity per spiegare appunto i cambiamenti in atto a San Francisco, e spiega Bloomberg, e poi, una volta ritenute credibili queste minacce di morte arrivate appunto al suo indirizzo, hanno deciso di cancellare questo meeting, e quindi non si è tenuto più, e poi hanno anche chiuso gli uffici per due giorni. Nell'articolo si va anche un po' a spiegare la figura controversa di Riccitiello stesso, e si ricorda come quando lui era CEO di Electronic Arts introdusse una monetizzazione che poi era definita loot box, e poi andò al centro di controverse piuttosto grandi, anche legali, fu al centro anche di iniziative legali dell'Unione Europea, ma non abbiamo tempo di parlare adesso. Comunque, questo lo introdusse in FIFA 2009, quindi stiamo parlando di più di dieci anni fa, e inoltre, dopo che aveva già preso la carica di CEO di Unity, e non so se qualcuno si ricorda, aveva, diciamo, apostrofato gli sviluppatori indipendenti come dei maledetti idioti, se, nel caso, non avessero pensato alla monetizzazione, al processo di monetizzazione del gioco, già dalle prime fasi del game design. Questo ecco per farvi capire il personaggio, inoltre, come avevo già detto nella puntata su Unity, ha destato un po' di sospetti la sua mossa di vendere 2000 azioni della sua stessa compagnia, proprio il giorno prima di annunciare i cambiamenti a prassi moda, che poi, di fatto, hanno comportato un grosso calo del prezzo delle azioni di Unity. Su questa stessa notizia, se ne parla anche su Polygon, che è un famoso blog che parla di videogiochi, in cui, appunto, c'è anche un piccolo report di agenti della polizia di San Francisco che hanno riportato a Polygon che le minacce sono effettivamente credibili e che derivano, arrivano da un dipendente di Unity stessa, che però non lavora negli uffici di San Francisco, in ogni caso, appunto, minacce credibili, uffici chiusi e il meeting, ecco, rimandato. Cos'altro succede? Ora qui sono su Game Braves, che è un altro blog che parla di videogiochi, e qua si va a scoprire, anzi, in realtà, non è stato Game Braves a scoprirlo, si va a riportare quello che un utente di Reddit ha scoperto, e cioè che la pagina Github dove Unity riportava i cambiamenti ai Terms of Service del software Unity, appunto, è stata cancellata, è stata rimossa o archiviata. In pratica, non si può più raggiungere quei documenti e pare che l'ultima versione disponibile di quei documenti risalga al luglio di quest'anno. Quindi, in pratica, dopo il luglio di quest'anno, dopo il 16 luglio di quest'anno, quella pagina è stata in qualche modo oscurata, ma silenziosamente Unity non l'ha fatto sapere a nessuno. E quel repository era stato creato nel 2019 appunto come meccanismo per tracciare tutti i cambiamenti che avvenivano ai documenti di Terms of Service del motore Unity stesso. E nel blog post che lo annunciava, che annunciava questo repo, nel definirsi proprio una open platform e una piattaforma impegnata nella trasparenza per essere proprio dalla parte degli sviluppatori, Unity aveva anche scritto che quando uno sviluppatore usa, utilizza una certa versione di Unity e non la aggiorna, quindi rimane su quella versione, avrebbe potuto anche rimanere sulla versione legata dei Terms of Service, restando quindi soggetto a quei limiti, a quella specifica versione dei TOS. E chiude l'articolo, nel marzo 2022 i TOS erano stati aggiornati dicendo appunto che se un update di questi termini non fosse piaciuto, avesse impattato negativamente sui propri diritti come sviluppatore, ecco che si sarebbe potuto restare ancorati a una versione precedente, quella con cui era stato appunto iniziato lo sviluppo del prodotto, del gioco. Poi invece, a marzo 2023, c'è stato un ulteriore update in cui questa modifica era stata di fatto cancellata, di fatto rimuovendo appunto questa possibilità per gli sviluppatori. E adesso questa clausola è completamente assente dai TOS e quindi gli sviluppatori sono costretti ad adeguarsi all'ultima versione disponibile. E se vi interessa l'aspetto più tecnicamente legale, vi segnalo un articolo su Ars Tecnica che si chiede appunto se a Unity si è concesso di cambiare in questo modo unilateralmente il pressing model, la struttura dei termini di servizio. Ebbene, tra l'altro, un portavoce di Unity stessa ha risposto. Qua c'è un virgolettato nell'articolo e qui dice sì, effettivamente noi possiamo cambiare i TOS quando vogliamo non è richiesto alcun consenso da entrambe le parti. E poi con l'aiuto anche di un consulente legale Ars Tecnica va a vedere in cosa si strutturano questi TOS anche i cambiamenti che abbiamo visto nel corso del tempo e la risposta del consulente appunto che dice che fondamentalmente sì loro hanno ragione possono cambiare in questo modo i termini del servizio il problema è sulla retroattività cioè uno sviluppatore che ha iniziato anni fa con delle regole e quindi ha diciamo fatto degli investimenti su delle regole su un patto che c'era tra il fornitore del servizio quindi del software che è Unity e lo sviluppatore ecco che cambiare in questo modo potrebbe effettivamente consentire a chi poi ha comprato di fare qualche rimostranza davanti a una corte perché effettivamente i termini dell'accordo con cui si è investito sono cambiati in maniera così radicale da rendere forse questo accordo nullo o comunque da portare avanti un qualche tipo di diatriba che potrebbe risolversi in tribunale e poi ci sono delle dichiarazioni di alcuni sviluppatori per esempio quello di Cult of the Lamb che è un videogioco sempre sviluppato con Unity e piuttosto di successo che dice appunto che un'azione legale arriverà sicuramente vi segnalo ora una cosa bellina anzi ringrazio Brian che me l'ha mandata me l'ha segnalata mi ha scritto in privato apposta per mandarmi questo statement che è molto interessante quindi grazie mille Brian e io lo riporto a tutti quelli che mi stanno ascoltando ed è uno statement di Relogic che è una compagnia che sviluppa sviluppo a videogiochi ne ha sviluppato uno molto famoso che si chiama Terraria ecco ha scritto questo statement in cui dicono sebbene noi personalmente non usiamo Unity non possiamo rimanere in silenzio e guardare queste mosse predatorie fatte contro gli studi di sviluppo doppertutto e quindi e prosegue noi condanniamo inequivocabilmente e rigettiamo i cambiamenti ai TOS e al pricing model proposti da Unity e poi vado a concludere la nota dice anche se Unity cambiasse queste politiche che adesso ha annunciato non è facile riparare la perdita di credibilità di fiducia e quindi infine noi doniamo 100.000 dollari a ognuno dei motori di gioco open source che sono listati qua sotto e sono Godot naturalmente super famoso ne abbiamo parlato mille volte e FNA che è la reimplementazione open source di un motore di gioco di Microsoft e in più sponsorizziamo ognuno di questi due motori di gioco di questi due progetti con 1000 dollari al mese da qua in avanti e tutto quello che chiediamo in cambio è che loro rimangano delle buone persone e continuino a fare quello che rende questi motori di gioco così potenti e disponibili per tutti i sviluppatori che ci sono qua fuori quindi questo era lo statement degli sviluppatori di Terraria di Relogic vedete che si possono anche fare delle cose buone facendo comunque business vi segnalo anche un tweet di OSS Insight che si è accorta che negli ultimi 28 giorni le star su Github ai motori di gioco open source sono schizzate verso l'alto in maniera strana per chi non segue queste mosse della industria ovviamente nel primo posto c'è Godot che ha preso un sacco di stelline il 535% di stelle in più su Github in questi ultimi giorni ma poi ce ne sono tanti altri Raylib Bevy Flux Engine insomma c'è un incremento su una marea di motori di gioco open source vi segnalo poi un'azione compiuta da un collettivo di sviluppatori di videogiochi europei che ha firmato una lettera aperta a Unity che contiene appunto alcune proteste contro questi cambiamenti ma non solo un'azione immediata che disattiva il servizio di ad quindi di advertising all'interno dei giochi Unity sono quelli che trovate sono gli ad che trovate per esempio nei giochi mobile molto diffusi e quei giochi ovviamente creano delle revenue per gli sviluppatori i publisher stessi ma creano le revenue anche a Unity una parte va anche a Unity ecco quindi loro in risposta e in protesta hanno disattivato gli advertise insomma tutti i banner pubblicitari nei giochi creando un danno a loro stessi ma un danno anche a Unity e questo è un tipo di protesta piuttosto forte creare un danno a se stessi per quello che si ritiene essere un bene per tutta l'industria quindi a seguito di tutti questi fatti che vi ho raccontato dalla parte di Unity si è mosso qualcosa è arrivata una risposta uno statement qualcosa sta cambiando beh è arrivato almeno uno statement in una tweet ufficiale l'azienda Unity scrive così vi abbiamo ascoltato vi abbiamo sentito ci scusiamo per la confusione che questo cambiamento di politica di prezzo ha causato appunto stiamo ascoltando stiamo parlando con i membri del team con la community con i clienti e con i partner e cambieremo faremo dei cambiamenti a questa policy nei prossimi giorni arriveranno degli update e condivideremo con voi e quindi grazie per l'onestà e per i feedback critici che sono arrivati naturalmente è uno statement piuttosto corporativo tende un po' anche a rassicurare magari gli investitori anzi Trent Casters dello studio Jump Light Odyssey ha risposto proprio che non c'è stata nessuna confusione anzi è stato tutto molto chiaro è stato super chiaro quello che Unity intendeva fare è più chiaro di prima e ci sono segni di quello che Unity potrebbe fare per cambiare le cose effettivamente dei report ci sono si trovano per esempio su Ars Technica e si parla di un cambiamento nei limiti e l'articolo suggerisce in particolare che da un report di Bloomberg verrebbe fuori che Unity stia pensando di applicare queste nuove politiche di prezzo soltanto ai clienti che fanno più di un milione di dollari di revenue quindi a progetti molto grandi anche se non è chiaro che cosa succederebbe agli sviluppatori di giochi un po' più piccolini ecco e inoltre si parla anche di cambiamenti alle politiche sul numero sulla conta del numero di installazioni che non sarebbe più retroattiva ecco cioè non andrebbe più a intaccare tutte le installazioni venute prima dell'entrata in vigore di questi nuovi termini che ricordo essere il primo gennaio del 2024 staremo a vedere cosa succede perché naturalmente questi cambiamenti arrivano proprio in questi giorni quello che dirà Unity tra oggi e domani sarà probabilmente decisivo però vedremo anche la risposta un po' di tutta la community sicuramente ci torneremo sopra quindi state tunnati perché ne riparleremo eccomi qua io ho finito puntata monografica oggi proprio dedicata soltanto a Unity è stata anche piuttosto dura perché ho dovuto leggere un sacco ma insomma spero di aver fatto un buon servizio perché credo davvero che questo tema sia super importante non è assolutamente una cosa soltanto limitata al mondo dei videogiochi ma riguarda tutta la software industriale quindi vale assolutamente la pena di seguirlo capire cosa succede cosa si muove attorno a tutto questo poi riguarda i cambiamenti di policy che l'abbiamo visto anche avvenire in altri segmenti del mercato IT quindi è piuttosto intrigante vedere un po' come si muove cosa si muove attorno a questi temi prima di lasciarvi solo due cosette oggi proprio stamattina è uscita la registrazione della puntata che abbiamo fatto live ieri sera di continuous delivery quindi è ripartito alla grandissima con la quarta stagione abbiamo avuto ospite Stefano Magni abbiamo parlato di platform team in ottica frontend anche quindi abbastanza strana innovativa ecco vale assolutamente la pena di sentirlo per capire di cosa si sta parlando è super interessante Stefano è un ospite incredibile e poi ultima cosa questo sabato sarò al come to code che è un evento una conferenza tech che si svolge a Pignola che è un paesino in provincia di potenza chiaramente se non lo sapevate organizzarvi adesso per venire a potenza potrebbe essere abbastanza impegnativo però se per caso siete lì siete nella zona o siete facilmente in grado di raggiungere potenza e Pignola magari potete farci una pensata per tutti quelli che invece si sono già iscritti e sanno già di esseri presenti non vedo l'ora di vedervi quindi faremo una bellissima conferenza con un sacco di speaker super interessanti io parlerò di framework frontend javascript ora davvero basta perché ho parlato troppo grazie di nuovo per avermi seguito ci sentiamo nei prossimi giorni e fate i bravi ciao grazie di nuovo grazie di nuovo